Fino a 50 centimetri di neve in montagna, temporali e piogge abbondanti sulle prealpi carniche in pianura, vento forte sulla costa, Friuli alle prese con una nuova ondata di maltempo, allagamenti e alberi caduti soprattutto nel Pordenonese. Si è concluso nel pomeriggio con le repliche della difesa il processo a Josué Ruoto, l'unico indagato per l'omicidio dei fidanzati di Pordenone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio, il verdetto è attesa non primo di domani sera. La polizia stradale di Udine avrà una nuova sede, non in città ma a Pagnacco, la regione ha individuato come collocazione alternativa Villa Rizzani, oggi l'annuncio da parte del prefetto Zappalorto ad Amaro. Oltre 350 persone sono salite a bordo del treno storico a vapore partito da Nova Gorizza per un viaggio della memoria nei luoghi della Grande Guerra, rievocazione a caporetto tra la nebbia e la pioggia come fu cent'anni fa. Sosta forzata per l'udinese che riprenderà mercoledì il lavoro verso il Cagliari il 24 gennaio, la data più probabile per il recupero intanto si parla già di mercato con Ciclitti avvicinato ai bianconeri. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo parlando delle condizioni meteo con la neve che ha imbiancato le nostre montagne ma parliamo anche della pioggia, delle abbondanti precipitazioni, dei temporali, del vento forte che hanno interessato la nostra regione a partire dalla nottata. Ebbene la situazione sta lentamente tornando alla normalità in Friuli, Venezia, Giulia. Diverse le segnalazioni di allagamenti localizzati che hanno colpito in particolare l'Interland udinese, Cervignano e il Friuli occidentale con varie zone in comune di Sacile finite sott'acqua. Intanto vedete le immagini della neve che è arrivata in particolare a Tarvisio imbiancando appunto le nostre cime. Alle 17 di oggi come informa la protezione civile regionale erano ancora impegnati in attività di monitoraggio e piccoli interventi sul territorio 20 volontari di 8 comuni. Le previsioni per la serata portano a escludere il rischio di acqua alta per quanto riguarda i fiumi. Oltre alla chiusura dei guadi sul Cellina Meduna si registra una situazione di attenzione in comune di Pasiano di Pordenone dove il fiume ha superato il livello di preallarme ed è costantemente monitorato. Sull'ivenza è stato attivato il servizio di piena, il livello del fiume è ora in calo. La piena dell'ivenza ha causato un innalzamento del livello del Meduna e del Noncello che però non presentano criticità particolari. Sul torrente Cormors è registrata una piena che ha raggiunto il livello di attenzione a Basaldella con un picco massimo di 2,06 metri alle 12. Attualmente i livelli sono in calo. L'invaso di Ravedis ha contenuto la piena del Cellina, ora è il livello di tutti i principali invasi e in lieve diminuzione e sotto la diga di Ravedis scarica ancora circa 35 m3 al secondo. Per la sera e la notte tra lunedì e martedì si prevedono precipitazioni in genere deboli o moderate, neve fino a Fondovalle sulle Alpi Giulie, oltre 1.300-1.500 metri sul resto della zona montana. I venti da nord-est tenderanno ad intensificarsi in particolare sulla costa e sulle zone orientali. La Bora nella notte domattina sarà forte con raffiche di vento che toccheranno anche i 120 km orari. La cronaca si stringe il cerchio sulle indagini che coinvolgono anche il Friuli relative al ritrovamento del corpo di una neonata individuata sabato da alcuni addetti ai servizi nel centro raccolta rifiuti ecopatè di Musile di Piave. Sul fatto indagano i carabinieri di Sandonà e Mestre. La piccola in avanzato stato di decomposizione era stata chiusa in un sacchetto conferito in qualche città del nord Italia all'interno del contenitore del vetro. In particolare le indagini punterebbero su Venezia, Bologna e sulla provincia di Udine. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Venezia a stabilire le cause del decesso e se la piccola sia nata morta. Da un primo esame sembrerebbe che la neonata sia morta da circa una settimana. E si sono concluse questo pomeriggio con le ultime parole degli avvocati difensori di Giosuè Ruotolo le repliche al processo che vede come unico imputato per la morte di Trifone Ragone e Teresa Costanza e i fidanzati di Pordenone proprio il militare campano. Gli avvocati Giuseppe Esposito e Roberto Rigoni Stern hanno ribadito l'innocenza del loro assistito accusato del duplice omicidio commesso il 17 marzo 2015 nel parcheggio del palazzetto dello Sport a Pordenone. In particolare l'avvocato Esposito ha dichiarato di credere fermamente che Giosuè Ruotolo sia un detenuto innocente per un fatto che non ha commesso. Se sono qui a reclamare una sentenza di assoluzione ha spiegato Esposito non è perché devo recitare un ruolo. Credo veramente fermamente in quello che vi ho detto in queste lunghe ore di discussione. E' arrivato quindi il momento del verdetto dopo oltre un anno di udienze. Alle 14 eventi di oggi i giudici si sono ritirati in camera di consiglio all'interno di una caserma. Il verdetto è atteso non prima di domani sera ma si potrebbe attendere anche fino a mercoledì. La Polizia Stradale di Udine avrà una nuova sede. È stata individuata dalla regione a Pagnacco. L'annuncio è stato dato questa mattina dal prefetto di Udine Zappalorto che è intervenuto ad Amaro alla cerimonia per i 30 anni della locale sede della Polstrada. La Polizia Stradale di Udine avrà una nuova sede ma non in città. La regione ha individuato Villa Rizzani di Pagnacco quale collocazione alternativa per consentire il mantenimento del presidio udinese. Dotata di ampi spazi come spiega l'assessore regionale Maria Grazia Santoro necessita di limitatissimi interventi e quindi è immediatamente fruibile e secondo l'assessore regionale Francesco Peroni risponde alla necessità di un razionale utilizzo del patrimonio della regione. L'annuncio del prossimo trasferimento da Udine a Pagnacco è stato dato oggi dal prefetto Vittorio Zappalorto intervenuto ad Amaro alla cerimonia per i 30 anni della locale sede di Polizia Stradale, il cui comandante Sandro Bortolotti ha illustrato i dati dell'attività. In 30 anni sono stati effettuati quasi 1000 arresti, sono state indagate in stato di libertà più di 3000 persone e identificate e segnalati 1700 migranti. Attualmente collabora con pattuglie la polizia austriaca e opera sia sulla viabilità ordinaria che sull'autostrada. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i poliziotti con 30 anni di servizio. Se da una parte esprime soddisfazione per la festa e per i risultati raggiunti dai colleghi di Amaro, dall'altra il SAP di Udine esprime rammarico e sconcerto invece per le decisioni che riguardano la sede di Udine. In una nota sottolinea che la Municipalità del Capoluogo Friulano non è riuscita a realizzare l'obiettivo di ospitare un reparto di rango provinciale che, unico in Italia, verrebbe ubicato nell'Interland e difficilmente raggiungibile dagli utenti. Siamo alla pagina politica per parlare degli effetti nella nostra regione del voto in Sicilia. Dopo la sconfitta nell'isola il centro-sinistra si apra alle primarie, si pensi ai programmi e solo dopo ai nomi. E' questo l'auspicio del sindaco di Udine, Furio Onsel, intervenuto questa mattina alla nostra trasmissione. Ora è 7. Sentiamo cosa ha detto. Anch'io è più o meno da un mese e mezzo che mi sto impegnando proprio per un'unità della sinistra, proprio perché come si vede, se la sinistra va spezzata, è difficile che resista questa ondata anche di facile protesta e di facile populismo che fa sì che possano essere vincenti partiti che non hanno programmi elettorali particolarmente precisi o forti. E qui mi riferisco per esempio al programma del 5 Stelle, ormai non si discute più sul programma. E il fatto che possano vincere senza avere, diciamo, di fatto dato un programma preciso deve far riflettere, deve far anche svegliare, io credo, gli elettori. E' l'altro grande rischio che ci sia questa tale disaffezione in confronto della politica. Per cui uno dice, ma tanto sono tutti talmente uno uguale all'altro che appunto è irrilevante che io vada a votare o no. Ma questo proprio per me è la debolezza del fatto che non si parla più di programmi. Io penso che per quello che riguarda la nostra regione, è indubbio che bisogna che la coalizione centrosinistra alla fine sia assolutamente aperta alle primarie. Ma proprio perché anche qui non è che uno può decidere chi sarà il candidato della coalizione, non si sa ancora che cosa aggreghi questa coalizione. Una volta che si è deciso che si faranno, diciamo, magari delle primarie, no? Per trovare chi è il rappresentante della coalizione. E premesso anche che non è assolutamente chiaro chi siano i soggetti della coalizione. Ma parliamo di programmi. Cioè invece che invocare Illy, invochiamo quello che Illy ha fatto di buono e che invece per dieci anni si è perduto, l'innovazione. Il centrosinistra fa autocritica, il centrodestra guarda avanti e a Roma si comincia a discutere, si continua a discutere su chi sia il candidato migliore per sfidare in Friuli Venezia Giulia il centrosinistra. Sentiamo. Dopo la Sicilia, l'attenzione dei big nazionali della politica si sposta sul Friuli Venezia Giulia e a Roma il centrodestra dibatte su chi debba essere il candidato alla successione di Deborah Serracchiani. A scendere in campo è Matteo Salvini, leader del Carroccio, il quale indica ancora una volta il capogruppo della Lega alla Camera, Massimiliano Fedriga, quale futuro governatore della nostra regione. E a fargli da sponda è Daniela Santanchè, deputata di Forza Italia, lo stesso partito che in Friuli Venezia Giulia sostiene convintamente la candidatura di Riccardo Riccardi. Non è la prima volta che Salvini prende posizione sul Friuli Venezia Giulia, commenta Fedriga, ritiene che la candidatura della Lega sia un'alternativa di governo alla sinistra, seria e credibile. Pensiamo sia una proposta vincente che offriamo agli alleati e soprattutto ai cittadini. Quanto al rapporto con gli altri partiti del centrodestra, Fedriga precisa non dobbiamo commettere l'errore che ha fatto la sinistra, o io o nulla, o io o me ne vado. Siamo noi ad essere a disposizione della comunità, non viceversa. Niente di nuovo, Salvini lancia la candidatura di Fedriga come Berlusconi fa con la mia, commenta Riccardo Riccardi, il quale si dice convinto del fatto che alla fine la coalizione si comporrà. Quanto all'ipotesi primarie, rilanciata dal contendente, il forzista afferma «Non sono contrario, ma mi sembra uno strumento pericoloso per il nostro elettorato. Peraltro anche il Partito Democratico sta abbandonando questa strada. Guardiamo all'esperienza del 2016», aggiunge. «Abbiamo preso Codroipo, Gorizia, abbiamo vinto a Monfalcone, Trieste e Pordenone senza fare le primarie». Venendo all'esito delle elezioni in Sicilia, pur sottolineando come siano poche le analogie tra le due regioni, Riccardi ritiene che vadano evidenziati due aspetti. Il centrodestra unito vince, spiega, e il Movimento 5 Stelle è tutt'altro che fuori dalla partita, come qualcuno immaginava. Siamo di fronte a tre blocchi abbastanza rilevanti, non va sottovalutato nulla. Quanto sta accadendo alla Galleria Bombi di Gorizia, dove dormono ammassate decine e decine di richiedenti asilo, è la rappresentazione dell'inerzia del nostro governo sulla gestione dell'accoglienza di sedicenti profughi. Questa è la denuncia del consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Novelli, che aggiunge «Non va meglio a Udine, dove sono stati accertati ingressi abusivi all'ex caserma Piave». A Gorizia rileva a Novelli «La situazione sta diventando ormai intollerabile, e la causa è da ricercare nei ritardi nell'applicazione del Trattato di Dublino. La nostra regione ha una situazione particolare, in quanto emetta non soltanto di richiedenti asilo, conclude Novelli, ma anche e soprattutto di stranieri respinti da altri paesi europei». E a grado intanto va in scena un nuovo capitolo della vicenda migranti. i cittadini che si sono mobilitati contro l'accoglienza hanno ufficialmente consegnato le firme per chiedere al Comune di indire un referendum sulla questione accoglienza. Consegnate nel fine settimana da parte del Comitato Organizzatore le 194 firme necessarie per l'istituzione del referendum popolare sull'accoglienza dei 18 richiedenti asilo, proposta oltre un mese fa dal sindaco Dario Raugna. Ora aspetta il primo cittadino a convocare la commissione, composta dal giudice di pace, dal segretario generale del Comune e da un avvocato designato dall'ordine, ma iscritto al Foro di Gorizia. Saranno loro a valutare il quesito e verificare le firme per dare un risponso entro i 30 giorni dalla presentazione delle stesse. Un argomento, quello dell'accoglienza, che da settimane ormai divide la popolazione gradese dai consigli comunali interrotti e poi blindati alle manifestazioni in piazza anche con canti. Fin dall'inizio non solo i comitati, ma anche i consiglieri comunali di minoranza avevano annunciato di voler cominciare la raccolta firme per l'indizione del referendum e nella sola giornata di venerdì, in quattro ore, le firme erano state già raccolte. E degli scorsi giorni poi la notizia dell'apertura del primo cittadino, Dario Raugna, ha lo stesso referendum, dicendo come fosse positiva la possibilità per i cittadini di potersi esprimere. Se ora la Commissione non dovesse riscontrare alcun ostacolo all'indizione referendaria, entro la fine dell'anno si potrebbe già vedere i gradesi e le urne per decidere finalmente su un tema tanto delicato quanto dibattuto. Ci occupiamo ora del vaccino anti-influenzale. Oltre a essere consigliato agli over 65 e a chi soffre di varie patologie, è indicato alle donne in gravidanza, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera come il più importante dei gruppi a rischio. C'è tempo fino a tutto dicembre per vaccinarsi contro l'influenza, anche se sarebbe meglio non attendere l'ultimo periodo, perché ci vogliono almeno 10 giorni per essere sicuri che il vaccino faccia effetto. Come ci spiega Daniela Agnesutta del Dipartimento di Prevenzione della SUI di Udine, lo scorso anno nella nostra regione le vaccinazioni hanno avuto un incremento del 3% rispetto alla stagione 2015-2016 e i virus hanno cominciato a circolare a settembre, mentre il picco è stato segnalato nelle prime settimane di gennaio. La stagione influenzale 2016-2017, secondo i dati forniti dal Ministero della Sanità e rilevati dalla Rete dei Medici Sentinella, è stata caratterizzata da un'incidenza cumulativa di media entità pari a 93 casi per mille assistiti. Per il 2017-2018 la composizione vaccinale prevede una variante solo su uno dei tre componenti. La campagna è rivolta soprattutto a soggetti di età pari o superiore a 65 anni, a persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in caso di influenza, come malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio e a chi non ha rischio svolge attività di particolare valenza sociale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene inoltre le donne in gravidanza come il più importante dei gruppi a rischio. Ma al di là delle vaccinazioni, il Ministero della Salute raccomanda alcuni semplici gesti per abbassare l'eventuale contagio, poiché il virus si propaga attraverso le gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce e il contatto con mani contaminate da secrezioni respiratorie. Lavarsi spesso le mani, coprire la bocca quando si tossisce e si starnutisce e l'isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie e febbrili, specialmente in fase iniziale. Mettere a fuoco quanto è stato fatto negli ultimi dieci anni sul fronte della valorizzazione e promozione della lingua friulana e guardare avanti per definire proposte e priorità. Sono gli obiettivi della conferenza regionale che si svolgerà a Udine a inizio dicembre. Alla presentazione sono intervenuti i rappresentanti della Regione e dell'Arlef. Si terrà venerdì 1 e sabato 2 dicembre a Udine la seconda conferenza regionale sulla tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana. Un'occasione di verifica e anche di indirizzo relativamente alle politiche linguistiche. Non vuole essere un bilancio di rito, vuole essere un momento veramente di studio, di ricerca, di approfondimento sugli esiti che gli investimenti che la Regione ha fatto in questi ultimi dieci anni, in modo particolare, abbiamo iniziato già dal 1996, diciamo sulla lingua, hanno avuto gli effetti sperati o se sono migliorabili. E quindi noi ci attendiamo dall'1 al 2 di uscirne qualche indicazione per quello che sarà il futuro e quali sono le reali priorità. Gli investimenti li abbiamo sostanzialmente raddoppiati, portandoli da 2 milioni scarsi a 4 milioni scarsi. Il Consiglio regionale, con la convocazione della conferenza di verifica dell'attuazione della legge 29 del 2007, svolge questo ruolo fondamentale che gli è proprio, cioè la verifica dell'attuazione di leggi che lo stesso Consiglio ha deliberato. Dunque, una reale valutazione di come è stata attuata la legge 29 del 2007. Claudio Violino, che ha coordinato la cabina di regia su mandato dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ha sottolineato come questo percorso serve anche a difendere ed implementare la specialità del Friuli Venezia Giulia. Il dibattito sull'autonomia e su specialità sulla cultura è un dibattito non solo italiano, con il referendum del Veneto e della Lombardia, ma anche a livello europeo con le note questioni della Catalogna. In questo campo si inserisce questa questione della lingua friulana, che ricordo è lingua di maggioranza all'interno della nostra regione. è importante perché diventa un presupposto anche per implementare ancora di più la specialità e l'autonomia del Friuli Venezia Giulia. Più di mille persone nei giorni scorsi hanno visitato la caserma Berghins di Udine, sede del Terzo Reggimento Genio Guastatori, in occasione dell'apertura al pubblico per celebrare l'unità nazionale. Tra venerdì e sabato si sono avvicendate diverse scolaresche, delle elementari e medie del capoluogo. Il personale specializzato ha illustrato agli allievi le dotazioni e le potenzialità dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature a disposizione dei guastatori. A tutti i ragazzini è stato conferito il diploma di partecipazione di Guastatore Provetto. Per quanto riguarda gli adulti, grande successo hanno riscosso la Sala Museale dei Guastatori d'Italia e la mostra Pietre e Storie per Gente d'Europa in Cammino, resa disponibile dal Comune di Chiusaforte e dall'Associazione Memorie della Canal del Ferro. Anche Porcia ha celebrato i caduti nella giornata del 4 novembre. Vediamo com'è andata. Onori ai caduti! Anche Porcia celebra la giornata delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia e lo fa commemorando i caduti di tutte le guerre. Cento anni dopo la Prima Guerra Mondiale, qual è il messaggio che rimane? Beh, innanzitutto un doveroso omaggio a quanti hanno sacrificato la loro vita per l'Italia e per le nostre libertà. Poi c'è un altro significato che vogliamo dare, che non possiamo cancellare il vocabolo guerra dal nostro vivere quotidiano, perché siamo circondati soprattutto da tensioni, da guerre non più così estese come erano una volta, ma di continue guerriglie e conflitti che incidono nella nostra vita sociale. E soprattutto il fatto di vivere in un mondo globale, globalizzato, non è più pensabile che siccome le guerre non sono qui da noi in Italia non ne possiamo più tener conto. Oggi dobbiamo farci carico di tutti i conflitti che ci sono nel mondo e operare per la pace. E lo facciamo ognuno di noi nel nostro vivere quotidiano, nel nostro essere effettivamente dei portatori di pace. E anche continuare a svolgere una vita normale può essere un segno, soprattutto contro il terrorismo? Soprattutto l'accettazione dell'altro. Non possiamo più pensare che uno, perché ha una differenza di lingua, di pelle, di religione, sia una persona che non ne è da accettare. L'accettazione dell'altro è il primo presupposto della pace. Oltre 350 persone sono salite a bordo del treno storico a vapore per un viaggio nella memoria partito da Novagoriz, arrivato fino a Caporetto. Uno sbuffo grigio accompagna lo storico convoglio di fronte alla stazione della Transalpina di Novagoriz. Uno spettacolo quasi normale per gli abitanti della cittadina slovena, ma decisamente una grande sorpresa per gli oltre 350 partecipanti al viaggio nella memoria in treno storico a vapore. Un'iniziativa che la Proloco di Fogliano Re di Puglia, da anni impegnata nella valorizzazione dei siti storici relativi alla Prima Guerra Mondiale, e la ricerca di nuovi metodi per raccontare i fatti avvenuti nel territorio isontino oltre 100 anni fa, porta avanti da oltre 12 anni. Appuntamento immancabile ai primi giorni di novembre, quest'anno ancora più particolare per la ricorrenza del centenario della battaglia di Caporetto. Un itinerario sui binari della storia che porta i visitatori lungo le rive dell'Azzurro Isonzo fino a Mostna Soci e Santa Lucia di Isonzo, quando quei territori erano sotto il dominio italiano. E poi su verso il Monte Colovrat per una revocazione tra la nebbia e la lieve pioggerellina, lo stesso clima che accompagnò gli scontri dell'epoca. Senza dimenticare i numerosissimi caduti, ed ecco la deposizione di una corona da parte di ogni commitiva, un saluto doveroso a chi su quei monti lasciò la vita. E la conclusione con il locale coro di Caporetto dopo la visita del museo ad essere entrati nel clima tragico dell'orrore bellico. Un ultimo sbuffo della locomotiva, il treno riparte fischiando e salutando l'edizione 2017 in attesa delle numerose iniziative che già si presentano all'orizzonte della Proloco Foglianina. Una manifestazione sui Magredi ieri ha confermato ancora una volta la contrarietà degli ambientalisti alla gara motoristica Italian Bahia. Un no chiaro e forte, seppur sotto la pioggia, si è alzato contro l'Italian Bahia. La manifestazione motoristica che vede sfrecciare camion, moto e quad sui Magredi. Il forum degli ambientalisti di Pordenone, composto tra gli altri da WWF, Legambiente e Associazione Naturalistica Cordenonese, si è ritrovato domenica sui Magredi con una sessantina di persone per manifestare la contrarietà alla gara. Un evento intitolato Inbalia del Bahia. Per i dimostranti, l'area magredile, che fa parte di un sito di interesse comunitario, è troppo importante dal punto di vista ambientale per essere messa a rischio dal passaggio dei bolidi. Insomma, la battaglia che va avanti da tempo tra organizzatori del Bahia e paladini dell'ambiente non accenna a placarsi, nemmeno di fronte al fatto che la manifestazione dà respiro all'economia locale, riempiendo alberghi e ristoranti, come dimostrato da un recente sondaggio di ConfCommercio. Un messaggio agli ambientalisti? Intanto li ringrazio e li saluto perché ci danno sempre dei punti di vista che noi magari non riusciamo a vedere. Quindi il confronto è sempre una cosa utile e interessante. Mi piace lo slogan che hanno inventato in balia del Bahia, quindi questo lo utilizzeremo anche noi. Ben volentieri confrontiamoci, magari andiamo non soltanto a camminare sui magredi, ma andiamo a raccogliere i rifiuti che noi lo facciamo. Se lo fanno anche loro, anche l'ambiente ne ricava un grande beneficio, un grande guadagno. Ma collaborare pare impossibile. Troppo distanti le posizioni. Da qui a marzo 2017, prossimo start della gara, ci saranno ancora scintille. Ed ora la vignetta preparata per noi da Fernando Venturini. Siamo allo sport, sosta forzata per l'udinese che riprenderà il proprio cammino in campionato il 19 novembre in casa contro il Cagliari di Diego Lopez, accostato alla panchina bianconera nel periodo della crisi. Per Gigi Del Neri, tempo per lavorare sulla tattica e per cercare di recuperare Berami e Alfredson. Resta un rebus la data del possibile recupero, con novembre e dicembre fiti di impegni soprattutto per la Lazio, con le due coppe, ma anche per l'udinese in Coppa Italia. La data più probabile sembra essere il 24 gennaio, dopo la sosta che quest'anno avrà luogo dopo l'Epifania. Intanto si fanno avanti le prime voci di mercato, dopo quella relativa a un possibile addio di Baic verso la Turchia. Ora si accosta l'udinese Adamato Ciciretti, protagonista della giornata di ieri con la rete segnata alla Juventus, per il parziale vantaggio del Benevento. Di questo e di altri temi si parla stasera a Bianconero, in diretta a partire dalle 21. È tutto per questa edizione, grazie come sempre per la vostra cortese e attenzione. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie.